Questo pomeriggio la Misericordia sarà in Piazza Duomo per vendere delle piantine per una raccolta fondi per la lotta all'AIDS. Di cosa si tratta? Sì, anche quest'anno la LIZ, l'Associazione Nazionale Lotta contro l'AIDS, in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS dell'1 dicembre, nelle giornate del 3 e del 4 dicembre, noi della Misericordia di Giarre, saremo in Piazza Duomo questo pomeriggio e domani mattina, ci sarà questa raccolta fondi e questa sensibilizzazione nei confronti della lotta contro l'AIDS, dove verrà data la piantina del bonsai, che è diventato il simbolo della lotta contro l'HIV, perché è una piantina verde, piccolina, ma che ha bisogno di tantissime cure, di tantissimo sostegno, come le persone affette da HIV. È sempre una malattia scomparsa, ma in realtà non è così. Infatti abbiamo dei dati veramente preoccupanti, si ammala una persona ogni due ore, abbiamo 4.000 persone infette ogni anno in Italia. Come si trasmette questo virus? Innanzitutto con rapporti sessuali non protetti, è la cosa principale, ma anche come contatto del nostro sangue con il sangue di persone infette, e tramite poi c'è anche la trasmissione madre-figlio, tramite la gravidanza, il parto e l'allattamento. Molte persone non sanno di essere infette, proprio questo è il problema principale, per questo invitiamo tutti a fare un test, soprattutto le persone che si credono in rischio, in modo da proteggere se stesse premanento, facendo delle cure in anticipo e quindi allungando la possibilità di vita e anche proteggendo gli altri e evitando la diffusione della malattia. Quindi molte persone non sanno appunto di non essere infette perché non si manifesta subito la malattia, ma spesso dopo circa 20 anni, perché il virus rimane latente, ma poi si manifesterà dopo circa 20-40 anni, proprio con l'ADS. Per questo diciamo di fare rapporti comunque protetti è il test, che basta un prelievo di sangue e così preveniamo noi e soprattutto gli altri.